Sardegna Amici cari dei porcini dalla Sardegna Ecco i moretti nostri, guardate un po' Questo è spettacolare Guardate Guardate Amici, questi sono veramente dei classici bronzini Spettacolari Cari amici, Gigi non vi tradisce Eh, guardate qua Adesso vi porto a vedere un'altra Sardegna Guardate E sicuramente è un cuginetto Guardate un po', eh Guardate Che ve ne pare Eh Guardate Ce n'è un altro Venite, venite 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 Fra Piellini Guardate quest'altro Bombolotto Bambolotto Nero Moretto Sardo Guardate Ssss 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 Ss Eh Quattro viento Guardate un po' Sì È gusti Spettacolari ciao aia amici ne abbiamo un altro un altro e un altro ancora e questo bombolone amici cari noi li vogliamo bene sicuramente li faremo morire di invidia di invidia guardate questo bombolotto amici è uno spettacolo lo dedichiamo a tutti gli amici dei funghi da Gigi Foyce alla Sardegna ciao cari amici Gigi Foyce prima o poi vi farà vedere questi spettacolari porcini bellissimi guardate i classici muri sardi amici i quattro muri ci hanno fatto dannare quest'anno noi però oggi è una giornata bella dai guardate un po' che bel moretto spettacolare ciao cari altri muri altri moretti però quello è più bello questo è più bello e questo è il classico muri un pochino guardate amici che carino anche il ragnetto guardate il ragnetto guardate il ragnetto porta fortuna guardate questo bel moretto giovane guardate amici qui ci vuole occhio per scoprire questo bronzino guardate vedete guardate guardate dove arriva guardate spettacolo divino quello bello questo bellissimo bello ciao ciao caro bronzetto spettacolare bello fresco una favola guardate il porcino ci hanno fatto penare però ciao amici cari guardate questo bombolone di porcino nero ormai invecchiato però sapete che vi dico guardate è invecchiato ma la sua parte la farà ancora 200 grammi di tagliatelle cosa dite è bello un bel porcino nero amici del porcino Gigi Foiz dalla Sardegna 30 novembre 2014 prima uscita stagione da porcini neri guardate un po i neri non tradiscono e neanche Gigi Foiz e cosa amici guardate a parte queste questi bomboloni guardate un po spettacolari guarda guardate qua che spettacolo di porcini neri giganteschi guardate eh però abbiamo trovato anche dei porcini neri così guardate eh uno spettacolo questi freschettini guardate questi giovani giovani guardate neri di Sardegna quattro mori e poi voglio farvi vedere questo guardate un po questi bellini bellini giovani 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 guardate cari amici Redma Antimeteo Ninico Stefano tutti gli amici del porcino guardate questo qua questo è il migliore della giornata guardate il primo premio primo premio è spettacolare questo secondo premio io darei questo bello è terzo premio della giornata questo bello va bene noi ci siamo però guardate anche gli altri non sono da meno qualche impolitus però è questo qua questo è il quarto premio glielo diamo guardate che gambo è il figlioletto che era sottoterra guardate forse non sarebbe andato avanti però un bel porcino anche questo amici prima uscita la prima di tante uscite speriamo che siano buone anche le altre queste le dedichiamo a tutti voi ai sardi soprattutto e anche ai non sardi ciao la GG4 grazie a tutti grazie a tutti